24 marzo Ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Giudici 17,6 Come vivi la tua vita? Il tempo di Giudici era un periodo particolare. Il testo della meditazione indica come vivevano in quell'epoca gli israeliti. Oggi le cose non sono cambiate. Le persone, solitamente, sono portate a voler far ciò che gli piace e gli sembra giusto. Sono molti coloro che fanno quello che gli pare meglio. Non sempre, però, quel che sembra la cosa migliore corrisponde a ciò che è giusto. Di conseguenza, le persone si trovano a vivere una vita insoddisfatta. Il rimedio alla condizione spirituale nella quale l'uomo versa è Gesù. Egli ha pagato con la sua vita per il pecatore e chiunque lo accetta nel cuore è salvato. E la salvezza produce un radicale cambiamento. Il perdono dei peccati, oltre a trasformare la vita, produce la libertà spirituale. Chi ha conosciuto il Signore e vive secondo la sua parola, non fa quello che gli pare giusto, ma quello che Dio richiede e gradisce. La sottomissione alla volontà di Dio produce una vita veramente appagata e grandemente benedetta da Lui.